storia di marco pantani siamo arrivati stiamo arrivando nella parte conclusiva siamo arrivati alla stagione 2001 e che fu una stagione diciamo mente buia così come quella successiva nel 2002 non mi soffermo sulle vicende extrasportive il pirata che sa bene o male conoscete potete guardare il film sulla sua vita che è stato fatto comunque sono stati sparsi fiumi d'inchiostro però appunto io mi soffermo sospetto sportivo sa di fatto che in queste due stagioni pantani non è stato competitivo c'è ancora speranze che potesse fare bene al giro d'italia del 2001 perché dopo tutto il tour del 2000 aveva vinto due tappe lasciato ancora protagonista pur non avendo la condizione ovviamente del 98 del 99 però pantani già nelle cose di preparazione che disputa regolarmente soprattutto in spagna e poi il giro del trentino non brilla miglior risultato un ventesimo posto a classica d'almeria il giro d'italia non parte male c'è la tappa di francavilla al mare nono è protagonista in un finale piuttosto convusto sotto la pioggia montevergine primo non durissimo in salita ria ventottesimo poi così come la tappa di reggio emilia in salita non è brillantissimo non rimane con i primissimi però rimane comunque ancora in messo non male in classifica infatti al termine della tappa di monte belluna prima delle grandi montagne pantani è ancora abbastanza ben messo la tappa viene vinta da tosatto pantani e quindicesimo a un minuto e undici dalla dalla maglia rosa frigo che conduce con secondo simone tra il suo azevedo quindi un distacco pienamente recuperabile se ci fosse il pantani dei giorni migliori e c'è grande attesa su una tappa successiva per una rinascita del pirata la tappa si conclude in cima a pordoglie in cui viene affrontato il fedaia in precedenza il finale molto simile a quello del 98 quando appunto cv la maglia rosa di pantani che arrivò secondo dietro guerini in quell'occasione però il miracolo non si ripete pantani sul fedaia torniato ai compagni squadra va in crisi davanti c'è la battaglia tra simone e frigo per la maglia rosa e poi c'è uno scatenato anche per squapio questo piccolo scato colombiano però pantani non è tra i migliori c'è i compagni squadra ce la mettono tutta anche nel tentativo di farlo rientrare in discesa i piedi del pordoglie pantani non è ancora lontanissimo dai migliori però sul pordoglie nuovamente crisi per per lui davanti se ne vanno perez simoni frigo difende estrenuamente la maglia rosa però che però passa al torrentino della lampa daikin che io che infligge 45 secondi al rivale poi via via tutti gli altri troviamo altri nomi che sono intrecciati a lungo con l'aria di pantani belli 7 1 0 1 8 1 0 3 decimo lano che aveva condiviso con lui il podio di duitama 3 0 2 lano che chiude la secondo questo giro d'italia dietro stimonia davanti a una iuosa pantani che chiude in questa tappa insieme ai compagni velo de paoli staccato di 6 minuti e 46 il giorno dopo nella tappa di arco pantani ha una reazione d'orgoglio sulla sull'ultima salita e santa barbara attacca non nel tratto più duro e attacca però non fa differenza quantomeno comunque ci prova si va a vedere in testa al gruppo camenzi in compagno di squadra di simoni lo va a riprendere però poi pantani nuovamente va in crisi chiude con distacco di 13 a 7 ventiquattresimo insieme a de paoli quindi al corso compagno di squadra la tappa vi è vinta in volata da contresa davanti a belli che verrà squalificato per il famoso pugno immortalato dalle telecamere data un tifoso che pare fosse un parente di gilberto simoni belli sarebbe arrivato sul podio di quel giro senza il pugno invece così non sarà frigo verrà squalificato per doping dopo che ci fu una perquisizione sanremo e tra l'altro proprio già prima delle perquisizioni pantani termina la tappa di sanremo poi anche con proverifici si ritirano riparte il giorno successivo pantani che torna a correre alla vuelta nel nel punto del settembre del 2001 ma senza combinare nulla di buono quantesimo posto con miglior risultato e poi il ritiro e anche la stagione del 2002 non va molto meglio pantani che disputa ancora una volta tante cose in spagna e anche cose importanti come la freccia e la 10 ma anche qui senza fare alcun risultato di prestigio miglior risultato un quarta quattresimo posto nella guelta mostro che aveva vinto anche negli anni precedenti poi disputa il giro d'italia anche qui niente di buono nonostante abbia sempre tantissimi tifosi a sospingere nella tappa di corvara insomma che viene viene citato uno striscione pantani per sempre proprio in quella corvara che gli dire soddisfazione in passato siamo sempre dalle parti di serva di val gardena in quell'occasione pantani si ritira abbandona il giro d'italia e chiude qui la stagione del 2002 e nel frattempo insomma continuare da avere tanti problemi di altro genere extrasportivo siamo di cui si è tanto parlato che ho detto in precedenza però che cosa succede poi succede che arriviamo la stagione del 2003 e pantani per rifugire da questi problemi extrasportivi diciamo va ad allenarsi in spagna insieme al suo nuovo compagno di squadra clavero di cui è stato rivale anche negli anni precedenti specie nel 99 e si allena a lungo in spagna insieme a clavero e debutta in casa sua la settimana internazionale coppie battagli e si vede un pantani che ha ritrovato la voglia di correre quantomeno e i risultati cominciano a migliorare arriva un secondo posto addirittura nell'ultima tappa a sassuoto viene battuto in volata da ivanov tra l'altro in rimonta ecco quanta magari alle volate pantani se se avessi iniziato era qualcuno un po più avanti ne avrebbe anche vinte di più penso a quella di conciare a bertha lumezzano nel 99 partenaria secondo poi disputa alcune cose spagnoli in salita non è brillantissimo però comunque si vede si vede l'impegno nella nella giro d'alagon a coglie un quarto e un quinto posto anche qui e fa meglio in volata che in salita però si vede un appunto un corridore che nuovamente ha ritrovato la voglia ecco e questo insomma sembra farbbe sperare per l'imminente giro d'italia dove anche qui corre davanti si vede che si vede che vuole far bene e coglie un nono posto nella tappa di vibro valencia e poi però arriva il terminillo dove la saeco di simoni e la vinical di roda il suo ex compagno di squadra garzelli impongono un ritmo altissimo e pantani non riesce a reggirlo non solo lui c'erano i corridoi che fanno peggio di lui come i due capitani della farsa borto frigo e ritor gonzalez c'è di fatto che pantani rimane più indietro accompagnato dai compagni di squadra smitz e codoll pantani chiude ventiquattresimo con distacco di tre minuti e 46 da garzelli che batte simoni e noè ricordate a giro del 98 maglia rosa in volata e poi tonco che vinse il terminillo nel 97 in questa occasione arriva 4 14 con la maglia dell'esotica ccc polsat comunque pantani non nonostante distacco accumulato non esce di classifica continuo a lottare nella tappa che si conclude non lontano da casa sua a faenza rimane nel gruppo dei migliori sia pure con fatica tappa in cui simoni si inventa un numero da lontano per con cui riesce a staccare garzelli per vincere la maglia rosa tappa che vinta viene vinta da alves e fuggitivo giornata davanti a tiralongo e appunto a simoni poi tiralongo futuro gregario di contador pantani arriva nel gruppo dell'inseguitoio 26 secondi ed è staccato in classifica generale a questo punto di 4 53 da simoni e diciassettesimo comunque molto meglio rispetto al nulla del soggiore 2001 e 2002 e poi arriva lo zoncolan che per la prima volta viene affrontato al giro d'italia non da versante di ovaro ma di quello di sutio più pedalabile ma durissimo negli ultimi due chilometri e pantani mette a squadra a tirare sul zoncolan all'inseguimento del fuggitivo belli che c'è anche brucia in davanti inizialmente quindi un pantani e anche qui vogliosa di far bene tanto appunto tanto che appunto riesce a far tirare i suoi compagni gasperoni in particolare è più nel tratto più due simoni più forte e pantani però è il grande protagonista sempre acclamato da una folla oceanica insomma al suo passaggio e si rende protagonista di una lunga lotta con garzelli per il secondo posto di tappa i due si superano più riprese poi pantani finisce un po la benzina nell'ultimo chilometro garzelli a seconda 34 secondi da simoni con cui si sta contenendo il giro italia testo casa grande a 39 secondi quarto la meteo la popovic 42 secondi popovic ed è fortissimo tra i direttanti lo sarà meno tra i professionisti specializzandosi che poi come gregario di hamstrung e pantani chiude comunque quinto a 43 secondi però è decisamente una rinascita rispetto alle giornate precedenti due giorni dopo ci sa c'è un altro riva in salita a pamperago dove pantani fece l'impresa del nel 1999 pantani e meno brillante rispetto a qualche giorno prima è chiaro che non probabilmente non aveva più il fondo che aveva negli anni passati e questa tappa la più dura di quella del zoncolan pantani fa tanta fatica nel finale dopo che inizialmente aveva provato a rimanere con con i migliori per i miei scatti di simoni e simoni che vince ancora una volta e finisce 35 secondi a garzelli e 33 secondi all'altra meteo il lituano un san test test al tour 2022 22 2002 poi anche lui comporto in vicenda i doping pantani chiude dodicesimo con distacco di 203 perdendo posizioni insomma nel finale però tutto sommato rimane ancora in quota così come disputa anche una cronometro dignitosa il giorno dopo a bolzano la cronovia è vinta da hito gonzalez è tornato competito dopo dei giorni difficili pantani chiude 26 esimo a 3 32 però più o meno il piazzamento del 98 nella crono vinta da zulle e poi si arriva alle alpi piemontesi c'è la tappa con il colle fauniero esiste che dir si voglia che si conclude a chianale una tappa anche questa durissima con un'altra grande salita nel mezzo e col de sanpeira pantani che mette davanti della la squadra sul colle fauniero all'inseguimento dei tanti fuggitivi di giornata c'era ancora belli davanti che c'è c'era tocci che attaccherà da lontano e tanti altri uomini che erano appunto in fuga la franchi baranoschi che sia chiesata eccetera e pantani e mette davanti a squadra quindi anche qui ci prova va un po in difficoltà però sul finale della fauniera dove gazelli prova a staccare simoni riprendersi a maglia rosa comunque pantani rientra in discesa e nuovamente c'è bagarre sul sul sempre dove la tappa si trasforma in una tragenda si mette a grandinale ciò nonostante le immagini televisive arrivano regolarmente cosa che fosse oggi non accadrebbe e c'è la staccia l'attacco di simoni insieme al quale si porta figlio che in condizioni freddo sa per nome era fortissimo però nel gruppo dei seguitori pantani lo vediamo soffrire sempre a qualche metodo arrivare i gazelli mazzolini rumsas e popovici però riesce in qualche modo resiste a rimanere attaccato dando ancora un'impressione danno ancora l'idea di avere una grande voglia di far bene anche se la condizione non è più quella degli anni in cui era dominante e quindi pantani scollina comunque il gruppo degli seguitori in discesa si fa vedere anche nel seguimento però succede che gazelli gare davanti e anche il pirata finisce a terra ho detto fa freddo piove c'è stata grande in precedenza sul sul col di sanpei e pantani rimane a terra per qualche minuto sembra disperato sconfortato insomma per l'ennesimo incidente che ha avuto dopo dopo tanti sforzi per provare a ritornare competitivo però viene confortato dal direttore sportivo madori pantani riparte conclude la tappa chiaramente è staccato di 15 59 del vincitore frigo che ha staccato anche leggermente simoni al finale e comunque c'è ancora un'ultima tappa di montagna non durissima quella con l'arrivo a cascata del toce e dove pantani per l'ultima volta lo vediamo protagonista in salita e ancora una volta mette davanti a squadra nel segmento dei fuggitivi e sull'ultima salita ci prova ad attaccare certo non sono scatti devastanti non avvengono i tratti più duri della salita e però ci prova qualcuno poi ha detto che forse sarebbe stato meglio che gli altri lo avessero lasciato vincere per ridargli morale però conoscendo pantani non gli sarebbe certamente piaciuto vincere in questo modo e probabilmente comunque non avrebbe vinto perché altri corridoi andava più forti di lui pantani chiuderà dodicesimo questa tappa a 44 secondi insieme ai compagni gaspione codone sa di fatto che non è chiaro chi fosse stato il primo andato a prende probabilmente frigo qualcuno dice restato simoni maglia rosa che ovviamente pantani lontanissima in passiva con simone avrebbe voluto tranquillamente fregasse dell'attacco di pantani però sta di fatto che il piata dopo tanti scatti viene ripreso e poi successivamente si stacca simoni va a vincere la tappa mettendo il sigillo sul suo secondo giro d'italia frigo riva secondo quindi posizioni invertite rispetto al giorno prima mazzolini si rimette in proprio perché gazzelli è un po in difficoltà anche lui caduto il giorno prima mazzolini arriva terzo pantani chiude dodicesimo a 44 secondi e il giorno successivo o meglio due giorni successivo pantani va anche all'attacco in pianura ma in fuga in pianura addirittura nella tappa vinta da lombardi davanti proprio mazzolini pantani arriva quindicesimo e anche nella cronometro conclusiva finale a milano e io lo sul percorso perché abitava a milano in quegli anni e andare a vedere la crono e pantani si impegna anche in questa ultima prova contro il tempo chiude ventisettesimo a 2 minuti e 51 da goncia chiude il giro d'italia il il quattordicesimo posto a 26 15 da simoni quindi non un piazzamento è gratante però senza caduta del colore del san pere pantani sarebbe finito dal 2010 e per un corridore che non ha fatto niente negli anni 2001 2002 sembrava il preludio a un ritorno alla competitiva ma soprattutto ritorno a una vita serena insomma dopo tanti problemi che che aveva avuto negli negli anni precedenti addirittura si parlava di un pantani che poteva andare alla vinical di rola per disputare il tuo insieme a garzelli nel 2003 dal momento che la mercatone 1 era invitata poi però purtroppo le cose andavano diversamente a quanto pare dopo dopo il giro d'italia pantani nuovamente sprofondato nella depressione e vent'anni fa nel 14 febbraio del 2004 ci ha lasciato e con questo chiudo il video spero di aver fatto qualcosa gradita insomma nel raccontare tutta la storia agonistica del pirata e quindi ciao a tutti